Un grosso incendio è scoppiato a Ferriera con l'esattezza a Novaplast, una nube nera di fumo si è alzata verso il cielo nel pomeriggio di venerdì, visibile anche da Perugia oltre che da Ponte San Giovanni. L'incendio ha interessato un magazzino posto sul retro, sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco con autobotti, autoscala e carroschiuma, mentre carabinieri hanno creato un cordone di sicurezza nella zona per non far avvicinare le persone. Numerose le segnalazioni e chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco, anche da parte di automobilisti che hanno avvistato una grande colonna di fumo dalla superstrada. Un'ambulanza della Croce Rossa è intervenuta sul posto poiché una persona è rimasta lievemente intossicata. Quando l'incendio è scoppiato molti dei lavoratori erano in pausa a pranzo. L'incendio è stato spento dopo due ore circa. Le squadre dei vigili del fuoco sono rimasti sul posto per la bonifica della zona interessata coordinate dal funzionario di guardia.